Antonio, sei fra i più esperti trader presenti oggi in Italia e svelaci i tuoi segreti. Beh, è stata un po' una coincidenza che sia molto esperto perché come secondo lavoro appena laureato sono stato dipendente di un agente di cambio, ho avuto la fortuna di poter tradare alle grida e conseguentemente a fare un tipo di esperienza molto eccitante. Ho avuto la grande fortuna di non tradare subito con i miei soldi, ero anche molto giovane, ma di vedere tradare decine e decine di persone gestendo un borsino dove la gente effettivamente investiva o provava a giocare in borsa, possiamo usare anche questo termine. Questo è stato un elemento importantissimo che mi ha portato poi a intraprendere da quando è possibile fare il trading online la carriera dal 1999 fino ad adesso. Qual è il periodo della tua carriera che ricordi con maggior nitidezza? Sì, il periodo migliore che mi ricordo probabilmente è stata la crisi delle borse tra il 2007 e il 2008, quella con l'Eman Brothers simboleggiata, la subprime eccetera, perché avevo un po' azzeccato il ritmo e per un anno e di più ho solo venduto delle opzioni, delle opzioni call, tutti i mesi che rinnovavo continuamente il mercato calando necessariamente mi ha agevolato a tradare in maniera piuttosto semplice e anche redditizia.